Uno dei primi pensieri di Cassano è rivolto a Thiago Silva, vicino, vicinissimo al Paris Saint-Germain. Ora bisognerà essere chiari su quali sono gli obiettivi del Milan, senza di lui possiamo puntare al terzo posto, ma dimentichiamoci il titolo o la Champions, il mio futuro in rosso-nero, ci penserò dopo l'europeo. E' pesante, pesantissimo Antonio Cassano, che con le sue parole riscalda e ritiro azzurro a due giorni dalla sfida con la Croazia, Crocevia per il futuro della Nazionale a Euro 2012. Fant Antonio in conferenza stampa ne ha per tutti, per di Natale lo chiamo cecchino, gli dai una palla e segna, per Giuseppe Rossi, mi dispiace che non sia in Nazionale, a Balotelli. Ho pensato, me la dà la palla, me la dà e calcio in porpo, non si sa, se la tiro fuori. No, ma lì sono attimi. Mario in quel caso mi ha detto che voleva mettere me la palla, non si aspettava che Sergio Ramos lo recuperasse. Io gli ho detto, con la stecca che c'hai, calcio, spacca la porta, e ti veniva ad abbracciare. Dice, volevo darti la palla. Adesso racconti ai giornalisti che romperanno. Cassano cerca il partner in attacco, lui con la Croazia ci sarà, ma con chi? Nella testa di Prandelli crescono le possibilità di vedere Di Natale dal primo minuto, con Balotelli dirottato in panchina. Intanto Barzai, infortunatosi ad un polpaccio nell'ultima amichevole dell'Italia prima degli europei, sta rispettando il programma di recupero. Siamo soddisfatti, ovviamente non sarà in campo per la partita di giovedì. Il tentativo rimane quello di metterlo nelle condizioni di essere a disposizione di Prandelli per la partita di lunedì. A sostenerlo è il professor Castellacci, medico della Nazionale. Nel caso in cui l'ultima partita, quella con l'Irlanda, sarà un dentro fuori, a quel punto Barzai potrebbe essere chiamato in causa, oppure rientrare direttamente ai quarti di finale. Oltre alle condizioni di Barzai, per il quale Castellacci spera in un recupero, il medico ha detto che anche gli altri 22 giocatori a disposizione di Prandelli non hanno problemi seri. Speriamo bene.